La partecipazione. Chiamo Matteo Vanazzi sul palco. Matteo Vanazzi di Fenice ha conseguito la laurea in ingegneria dei materiali al Politecnico di Milano, dottorato di ricerca in scienze e tecnologia per l'energia e il nucleare, ha una breve esperienza in ambito accademico, poi nel 2020 fonda con la collega di studi Luisa Mondora la start-up Fenice di cui oggi fa parte. Ricopre da quel momento nell'azienda il ruolo di Chief Technology Officer curando gli aspetti tecnologici e scientifici. Ti lascio la parola, Fenice ricordo è anche membro unità del progetto Mimosa, quindi vi parla anche di qualcosa inerente alle attività di cui ho detto prima. Ti lascio questo. Mi sentite bene? Sì, sì. Grazie mille Giorgio per l'introduzione. Cercherò di tenere la presentazione il più leggera e breve possibile, visto che l'ora si fa tarda e non vorrei uccidere nessuna persona dell'audience. Una breve introduzione alla proposta della nostra azienda. Come ci è stato citato diverse volte già dal professor Di Pasquale e dagli altri colleghi, Fenice è una realtà nata in Lombardia nel 2020 durante il Covid e in questi quattro anni è stata acquisita da un gruppo norvegese, visto che ahimè abbiamo trovato più interesse verso altri lidi nell'investire in tecnologie sostenibili che fossero realmente sostenibili e non pratiche, diciamo così, di greenwashing. L'obiettivo della nostra startup è quello di fornire materia prima per stampa 3D, principalmente polvere metalliche, da processi di economia circolare, andando quindi a valorizzare tramite un processo di upcycling del metallo ad alto valore aggiunto che noi possiamo reperire attraverso i nostri canali, i nostri partner e trasformare questo metallo in polvere. Il nostro core business, il nostro obiettivo principale è appunto quello di produrre la polvere, tuttavia grazie alla nostra esperienza pregressa abbiamo anche esperienza e capacità interna relativa alla stampa 3D, quindi andare a realizzare i manufatti come stiamo facendo anche appunto nel progetto di Mimosa. Il nostro obiettivo non è solo quello di conferire ai nostri clienti una polvere metallica che rispetti i requisiti tecnologici, ma andare a conferire anche tutto ciò che concerne risparmi in termini di energia e CO2 equivalente che noi andiamo a realizzare tramite il nostro processo brevettato. Ad oggi il processo di riciclo del metallo è già qualcosa che esiste, non stiamo reinventando la ruota, ma la differenza principale è che il processo di riciclo del metallo ad oggi è fatto in maniera inefficiente per diverse ragioni, sia per ragioni economiche, sia per ragioni tecnologiche, ma soprattutto anche per ragioni di regolamentazioni e legislativa a livello locale e internazionale. Ad oggi per produrre un chio di polvere metallica si hanno grossi impatti a livello ambientale a causa del reperimento della materia prima in primis, ma anche del processo stesso di produzione della polvere. Con il nostro processo brevettato siamo in grado di ridurre significatamente questi impatti ambientali e produrre un prodotto che ha lo stesso valore a livello qualitativo. Come è possibile questo? Qui potete vedere come viene realizzata ad oggi la polvere metallica per stampa 3D. Si parte ovviamente da un certo quota parte, da un certo quantitativo di materiale di scarto, ma solitamente a questo materiale di scarto viene aggiunta sempre una parte significativa anche di nuove risorse da estrazione mineraria. Questo per andare a coprire alle inefficienze a cui accennavo prima e realizzare un prodotto che rispetti i qualitativi richiesti soprattutto da un punto di vista chimico, di composizione chimica. Ci sono una serie di passaggi che si vanno a realizzare fin tanto che questo semilavorato entra in questo black box, che è l'atomizzatore, che è il macchinario che viene utilizzato poi per produrre la polvere. Con il nostro processo brevettato siamo in grado di tagliare una serie di step intermedi e di andare direttamente con materiale di scarto, fino a un 100% materiale di scarto, nel sistema che poi noi utilizziamo per produrre è la polvere metallica. In questo modo siamo in grado di utilizzare fino a un 100% di materiale di riciclo nei nostri prodotti, ottenendo risparmi in termini di energia e impatto ambientale significativi, 50% circa in termini di risparmi energetici e purtroppo è stato tagliato nella slide, dal 50% a 70% in termini di risparmi ambientale. La nostra soluzione ci permette non solo di supportare i nostri clienti, in generale tutta la filiera da un punto di vista di sostenibilità e impatto ambientale, ma ci permette di offrire anche degli altri vantaggi, sia di natura economica che diciamo così logistica. Infatti promuovendo il riutilizzo del materiale di scarto localmente siamo in grado di favorire la produzione locale, riducendo quindi costi e impatto ambientale in termini della logistica, di trasporto e dello stoccaggio. Possiamo garantire un prezzo di nostri prodotti che sia più stabile e che non risenta così tanto la fluttuazione delle materie prime sul mercato, cosa che abbiamo visto negli ultimi anni a causa del Covid e poi della guerra in Ucraina. E possiamo soprattutto garantire una filiera che sia più resiliente, sia da un punto di vista di approvvigionamento, ma soprattutto da un punto di vista di tempistiche di fornitura di questi prodotti. Alcune parole poi sul nostro processo, come andiamo a realizzare questa materia prima attraverso questi sistemi di economia circolare. Partendo da sinistra, una parte assolutamente chiave nel nostro processo è quello di andare a reperire i materiali di scarto ad elevata qualità. Quello che noi facciamo è cercare di allogare non con le società che ad oggi commercializzano materiali di scarto, ma andando direttamente a che fare con gli utilizzatori finali che sono quelli che poi vanno a smaltire questo tipo di prodotto, andando a fornire quindi un vantaggio direttamente a loro, ma soprattutto permettendoci di andare a provvigionare una materia secondaria di elevata qualità e dove è possibile raccogliere tutte le informazioni relative a ciò che era successo nella vita precedente di questo materiale, per avere quindi una qualità più elevata possibile su questo prodotto. Andiamo ovviamente a produrre la polvere tramite diversi processi di atomizzazione e tutto ciò che riguarda poi il post-processing della polvere, quindi vagliatura, setacciatura, impacchettamento eccetera. È molto importante tutto l'aspetto di caratterizzazione della polvere che facciamo in parte internamente e in parte esternamente, avvalendoci di società terze parti qualificate per la caratterizzazione di queste polveri. E ultimo ma non ultima la parte di stampa che noi utilizziamo sia per andare a produrre dei manufatti in alcuni casi specifici come all'interno del progetto Mimosa, ma soprattutto per validare il nostro prodotto. È importante quindi non solo poter caratterizzare la polvere ma anche provare a stamparla per riuscire davvero a dimostrare che sia un prodotto qualitativo che rispetti i requisiti necessari. A questo segue anche una quantificazione di ciò che concerne l'impatto ambientale della nostra produzione e quindi i risparmi ambientali che noi siamo in grado di ottenere. Questa quantificazione avviene tramite la metodologia del Life Cycle Assessment o LCA. L'obiettivo come dicevo prima quindi è quello di conferire non soltanto un prodotto fisico ai nostri clienti ma quello anche di poter accoppiare questo prodotto fisico a tutti i risparmi in termini di CO2 ed energia che noi siamo in grado di ottenere tramite il nostro processo in modo da avere un processo real time che ci permetta di ottenere questi dati. Torniamo all'aspetto nominato precedentemente di importanza dei dati e poter conferire questi dati poi ai nostri clienti. Il nostro obiettivo sul lungo termine è quello di seguendo i trend più recenti a livello nazionale internazionale poter utilizzare quelli che al momento sono dei risparmi di CO2 e convertirli in seguito in crediti di CO2. Questo è molto importante per l'intera filiera. Pensare quindi di poter produrre una materia prima o una polvere che abbia intrinsecamente questi crediti di CO2 che possono poi essere trasmesse all'interno dell'intera filiera quindi da noi ai nostri clienti partner e infine agli utilizzatori finali di questi componenti che vengono realizzati tramite la stampa 3D. All'interno del progetto Mimosa oltre che a curarci della parte di stampa ci stiamo curando principalmente di ciò che concerne il riciclo della componente metallica a fine vita e la trasformazione di questa componente metallica in polvere. Andrò a presentare adesso alcune slide che derivano dal lavoro congiunto all'interno del progetto fatto da Fenice e da GBP, una società spagnola che sta collaborando con noi appunto per il riciclo di questi prodotti. L'obiettivo di Mimosa è quello di stabilire nell'aerospace ma in generale poi estendere questo approccio anche da altri settori appunto una filiera che sia completamente circolare. Partendo da sinistra quello di riuscire ad integrare in questo processo chiuso circolare diversi input di materiale secondario che possono essere parti obsolete, materiale di scarto, materiale proveniente da decommissioning di diversi asset ma anche polvere metallica non più considerata in specifica e che quindi deve essere in qualche modo smaltita o se possibile rigenerata, riciclata, andare a produrre la polvere, conferire la polvere a società partner che sono interessati poi ad utilizzarla che possono essere servizi terza parte ma anche società che hanno internamente della capacità di stampa e ovviamente poi utilizzare questa polvere per stampare componenti e andare a conferire i componenti agli utilizzatori finali che poi li mettono in esercizio. Da considerare poi ovviamente di avere un ciclo chiuso in modo che poi gli utilizzatori finali essi stessi siano in grado poi di rimettere questo prodotto a fine vita nel processo di riciclo. Per quanto concerne il progetto specifico di Mimosa stiamo avendo a che fare con diverse sfide. Gli aspetti più semplici sono quelli che riguardano il riciclo di un singolo materiale, di un materiale monocomponente come possono essere scarti di lavorazione, scarti di stampa piuttosto che campioni stampati nel materiale di nostro interesse che sono tipicamente leghe di alluminio al C10MG. Allo stesso tempo l'obiettivo del progetto Mimosa è quello di realizzare dei manufatti andando ad accoppiare questa base metallica, appunto leghe di alluminio, con queste fibre di carbonio. Ovviamente se ragioniamo poi il processo a fine vita dobbiamo anche metterci nell'ottica di riuscire a riciclare anche il materiale multimateriale con le fibre di carbonio in maniera efficiente. Tramite appunto la collaborazione con diversi partner del progetto abbiamo sviluppato un processo di separazione in modo da riuscire a separare il componente metallico dalle fibre di carbonio a fine vita. Questo processo di separazione che è in carico al partner del progetto GBP prevede cinque fasi principali. La prima fase è quella di andare a macinare il materiale raccolto che sia esso metallo puro piuttosto che un'accoppiata tra metallo e fibra di carbonio. Il materiale così macinato nel punto 2 viene separato tramite opportuni nastri trasportatori per andare a rimuovere in primis tutta la componente tutta la componente endogena relativa a materiali magnetici o a impurezze presente nello stesso e andare anche a separare i materiali in base alla diversa densità di questi componenti. Si riesce quindi ad avere una prima separazione tra le fibre di carbonio e il materiale metallico ma si hanno sicuramente dei problemi di materiale all'interfaccia o di materiale che presenta ancora un accoppiamento tra questi due prodotti. Si utilizzano quindi degli step successivi soprattutto relativamente alla frammentazione. Nel processo di frammentazione tramite opportuni martelli ed opportuni lame si va a macinare ulteriormente il materiale, a ridurre questo materiale in parti di dimensione molto inferiore e si cerca ulteriormente di andare a rendere questo materiale il più omogeneo possibile sia in termini di dimensioni che in termini di geometria. Una volta che il materiale è stato frammentato ci sono opportuni sistemi per andare a separare nelle diverse pezzature, quelle che potete vedere qui al punto 4 e una volta che le varie pezzature sono state separate qualora ci fosse presenza ancora di materiale non opportunamente separato si possono utilizzare degli altri ruoli trasportatori come in questo caso che sfruttano la diversa densità o il diverso peso nel materiale che viene raccolto alla fine del ciclo precedente per andare a raggiungere un'efficienza del processo molto molto elevata sopra il 98-99% di superazione. Possiamo vedere qui a destra il risultato, il prodotto finito da superazione e se il video parte, perfetto. questo qui è una fase del processo molto elevata alla vaccinazione e flammettazione dove si può vedere come il materiale di ingresso che precedentemente mostravo viene lavorato in modo da andare poi a sminuzzarlo e a prepararlo poi alla separazione. Una volta che poi il materiale viene opportunamente separato nelle componenti metalliche e polimeriche il materiale poi viene conferito alla nostra società Fenice che ha il compito di andare a riciclare questo materiale e di andare a produrre la polvere. Per la produzione della polvere utilizziamo tecnologia e stato dell'arte di atomizzazione e in questo caso specifico ho visto lo stato preliminare dei test che abbiamo fatto fino a questo momento. Stiamo utilizzando dei sistemi più su scala di laboratorio di ricerca e sviluppo per andare ad atomizzare il materiale e produrre la polvere. La polvere che poi deve essere vagliata e setacciata tramite opportuni sistemi in modo da raggiungere specifiche anche granulometriche di interesse. Potete vedere qui un riassunto del processo di atomizzazione e produzione della polvere. Partendo da sinistra abbiamo in questo caso alcuni campioni per prove di trazione a fatica che erano stati stampati e che abbiamo utilizzato poi per alimentare il nostro sistema. C'è un breve video che stava girando nel mezzo dove si può vedere il processo di... dove si può vedere il processo di atomizzazione e la polvere viene infine raccolta in modo poi da essere caratterizzata e andare a confrontare poi le proprietà chimico-fisica di questo prodotto con quella standard di ingresso. Abbiamo raccolto dei risultati preliminari in termini di caratterizzazione della polvere. L'obiettivo del progetto che ha una durata complessiva di tre anni sarà quello di andare a produrre dei quantitativi significativi di polvere tramite questo processo di riciclo e riutilizzare questa stessa polvere per fare delle ulteriori stampe e poter comparare poi le proprietà sia di natura fisica ma anche meccanica dei componenti stampati con questa polvere con quelli ottenuti all'inizio del progetto con polvere di natura più commerciale. Quindi per concludere l'obiettivo di questo task specifico del progetto Mimosa è quello di andare a esplorare dei processi alternativi di economia circolare per andare a massimizzare la componente di sostenibilità e la componente di efficientamento del processo stesso. Al momento stiamo riutilizzando diversi fonti di materiali di scarto provenienti dal progetto stesso. Abbiamo potuto stimare in forma ancora molto preliminare quali potrebbero essere gli impatti in termini ambientali e risparmi dei buoni risultati in termini di separazione tra componente fibrosa carbonio e la componente metallica e ad oggi stiamo lavorando per ultimare il processo di atomizzazione di riciclo della polvere e poter dimostrare come questo processo che su piccola scala stiamo facendo, stiamo portando avanti in Mimosa, possa poi essere esteso anche ad altri processi, ad altri clienti e partner operanti in questo settore.